Il Polo Laboratorio di San Giuliano ha aperto le porte per una quanto mai significativa prima volta. Protagonisti sono stati 18 allievi del Liceo Sperimentale di Scienze Applicate per la Transizione Ecologica e Digitale attivo all'Istituto Mottura di Caltanissetta guidato dalla dirigente Laura Zurli. Scuola, università e imprenditoria fanno squadra, ciascuna apportando al progetto comune le proprie specificità. Le aziende aiutano le scuole a individuare i temi di apprendimento richiesti dal futuro mercato del lavoro, offrono agli studenti l'opportunità di verificare le conoscenze apprese in situazioni reali e mettono a disposizione le loro professionalità. Sono a oggi 25 gli istituti scolastici di tutta Italia, tre in Sicilia, che hanno avviato la sperimentazione in questo anno scolastico e altri due, uno in Sicilia, si aggiungeranno nel corso del prossimo. Dei quattro istituti scolastici siciliani che hanno puntato sul nuovo Liceo Sperimentale, ben due sono della provincia di Caltanissetta. Accanto all'Istituto Mottura figura infatti pure il liceo scientifico Elio Vittorini di Gela, guidato dalla dirigente Angela Tuccio.